Tax Day, ovvero il giorno delle scadenze fiscali per i titolari di partite IVA, i professionisti e le imprese. Era in agenda il 30 giugno scorso, ma un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dettato dall'emergenza sanitaria, lo ha rinviato ad oggi, 20 luglio. È la prima grande scadenza fiscale di questo anno tribolato e prevede il versamento del saldo e dell'acconto di IRPEF ed IRES, del diritto camerale e dell'imposta sostitutiva dovuta da minimi e forfettari. 4 milioni e mezzo di contribuenti interessati per un gettito stimato di 8 miliardi e 400 milioni di euro. Ma è una scadenza contestata per le difficoltà economiche e la mancanza di liquidità dovute alla pandemia. Le imprese, i professionisti e le partite IVA, sostenuti dai commercialisti preoccupati per le difficoltà operative, hanno chiesto una proroga al 30 settembre che non è stata però concessa. Il governo sostiene che un ulteriore rinvio creerebbe un ingorgo fiscale a settembre, ma è molto probabile che molti contribuenti ricorrano ad una sorta di proroga fai-da-te. Per chi non è in grado di rispettare la scadenza del 20 luglio è possibile infatti differire il pagamento delle imposte al 20 agosto con una maggiorazione dello 0,4%, sperando poi in una cancellazione di interessi e sanzioni. succede l'opioneare del 20 ugualatore a settembre. Grazie a tutti.